Non so se Giacco è il medico, quasi asi Vai Vai già, ma è il medico va Flenchilime Poi ho detto stacente qui Thunderchild UK Thunderchild UK è un connessonato Ci scommetto Il teatro di ping in effetti si connessonato 21 di ping N'è stato bastardo Dai ti c'è 37 È una quarantina, ma è ovvio C'è 37 su quelli inglesi Sul tedesco c'è 20, 22 Eh, me odio Sarebbe l'inglese perché tutti onnessonati Mamma mia C'è gente c'ha 10, 11 9 C'è come fai A competere con uno che ha 9 di ping E te ne hai 100 Eh, boh Sì, ma poi è uguale C'è a volte trovo difficoltà Io c'ho 20 di ping C'è cazzo Tu fai su 20 di ping Cazzo anche a 25 e meno I inimizi controllano abbastanza obiettivi da dominare la battaglia Prendeteli subito Eh sì perché trovi quella cena a 14 Ti scioglie Noo qui da me qui da me qui da me No mi è più 28 Boh vabbè Ci sono che sguaglia Dietro night C'è ci sono gli ambienti dietro 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 L'arrivo è che uno mi sguaglia Obiettivo Anton preso Occhio sì Sento falsi alla tua destra Pietro di te Oh che cazzo Occhio sì C'è due che fanno il flank da C Ti dà olio qua Senti Abbiamo perso l'obiettivo Anton Oh dietro dietro Abbiamo conquistato l'obiettivo Cesar Dov'è? Dov'è? Dov'è questo? Madonna nella siepe Madonna oh di to' nel culo sta gente Badia è che c'è un camperone nella siepe Non lo vedi guarda Non lo vedi Già è verde Fa nelle siepi Ho finito di soffrire Abbiamo perso l'obiettivo Abbiamo perso l'obiettivo Che cazzo cazzo di muletto di locale Adesso l'obiettivo Bruno è nostro Gianfranco Bari In scivolata me lo son fatto B B io fuscire B Soldati abbiamo perso l'obiettivo Bruno L'obiettivo Cesar è perduto No madonna la baguette Occhio adesso chiuda ma vicino a me ci dovrebbe essere uno qui vicino al kit di Ah vedi La baguette Un altro camperone No dietro di me maremma puttana o l'approfittatore babbone del cazzo Ma gliela no tipo 0 i nostri I babbone da dietro è venuto Ma che foco è la re qui Dai sono spawnato da questo un be... Da questi quattro ebeti Madonna sono morti tutto Degli spastici Dai ma che stanno a fare No sti madonna Buo E il bestiale Ma anche se la spawnata da questi quattro ebeti Insomma Questi due stupidi E che dovevo fare Tipo una casa Perché ha spawnato appunto dietro Perché è bugato A volte non ti fa rientrare Un po' casuale Un po' crepa Un po' crepa Ma se è vero in inglese è una merda O si Se è vero in inglese Ma io dico il genere Ci sono i server Cazzo Tedeschi Che è più vicino Ma santo cielo Ma tcv80 A prendere un server tedesco Non è morta 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 Colpi Un po' smiro ovviamente Andone entra colpi smiro Server tedesco Andava più bene Mira fluida Qui invece si f***a scatti Allerta L'obiettivo Cesar è stato perso Oioi 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 Che spogliata è sto Madonna Baguette 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 Un connessione Scommetto No C'ho più o meno Il mio finger Siamo in due Siamo in due Contro Contro Da dietro Laggiù L'ho puntato Aniello Aniello Ti spara piede Ammazzo Non so come Tutti onnessi Noi 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 Tutti onnessi Si ho capito Ma i nostri fanno proprio un cazzo Porca madonna Attenzione L'obiettivo Bruno è stato Ci ho dato per paura Ma guarda Non puoi fare niente Sto facendo 6-5 Tento night su tutti Chi Eh Questo mi fotte La kill Si Tanto io Perché me ne f*** le kill Eh ma quello è un nemico Non gli entra un colpo Non gli entra un colpo Apri sta cazzo di porta Mamma mia Ho soffatto a quello lì Potenza di qualche cosa di strano Da Ma gli ho sparato prima io A questo Gli ho sparato prima io Non mi ha sciolto Io finivo colpi Come si fa Sette colpi In numero Mi ha sparato prima io Uno che c'è una sciolta Non lo so No Dov'era? Madonna L'ha sbagliato nelle rocce Diamo Mattia 150 Segniamo Mattia Figlio di puttana Rianima Andiamo Tanto sarà Un 2001 Rianima Rianima Oberney Quello delle mattonelle Maree anima Oberney I fenni Delle mattonelle Tutuino Madonna E' shotta Gli ho tirato Mi sono fatto Full team Dei tft Mi sono fatto Full team Memorabili Aniello Edgio No Da dietro Ancora Questo Ma lo uccide Questo scemo Che fa Poi ci c'era L'alleato Di vicino Un metro Non lo uccideva La l'alber Lasciato ucciderà Vabbè Non ho però Io devo morire Da 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 Per corpo Di Quattro alleati Impacilli Dove spai Non schippare No Per rianimare Sto per rianimare Celestino Basta Io ho detto Non rianimo più nessuno No No Io rianimo solo te Basta Sono di cazzo Rianimo solo te Ma ti non viene Tanto lo so Vai chiuso Abbiamo perso L'obiettivo Cesar Oh Certo Mi fa vedere Quello 42 Punti Ingananti Sperta Arrivano Upload Sono Ma non Ressavano Ressavano Sciolto No L'immirà Il k7 Ma vabbè Miravoli Night Thunder child Dimmi dov'è Dimmi dov'è Praticamente Nella casa fronte Nel cortiletto Frontale A me Dove sono morti Io frontale Cioè Praticamente L'era Mirato Ma Hittato E poi Vivo fuori Ma 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 No Io Non Non ho Più Il mio MP Quando Scambia Il kit Bravo Quello Sta in Merda Vediamo il controllo Dell'obiettivo Anton Da dove Ho Il Sto Amperato Un po' Mitraglioni Di Merda Un po' Mitraglioni Di Merda Titan Metraglioni Oh E Sto Bruciando Oh E Sono Perduto Oh E Sono Io Spasto Di Un Celestino Mamma mia Che Fitto Di Revolver Oh 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 Obiettivo Cesar Completato Urraa Bene Ci siamo presi L'obiettivo Anton Madonna Mi avverto Abbiamo perso L'obiettivo Bruno Allo Saniteta Cioè C'è uno Dei Nostri A camprare Su un tetto Ma che ladora Siamo di Drio Ma glielo Butti giù Questi Mi avresti Cazzo Di Fenileo Ben getroffen! Brauche Sanità! Ah! Ich brauche Sanità! Ok, ho riattivato l'audio perché c'era un po' di attivazione e quindi mi sono mutato. L'anime il tuo a mio non mi romperi il cazzo. Divo bene lo rianimite perché io non lo rianimo. Oh! Capiamo qualcosa, Knight, che è qui! Eh, stavo andando su B ma... Soldati! No! 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 L'abbiamo conquistato! O si va a provare, o si va a figli a B! No, c'è gente sul cindy già! Madonna! Madonna! Ero solo! Quindi è finile! Sì! È finile! L'obiettivo Cesar è perduto! No, non può! Non ho! No! No, ma... Fiii! Già! Sponato è morto! Aspetta, aspetta, for ti vengare animali! Facciamo! Ma... Ma... Bacca, cari! Ottimo lavoro! Abbiamo preso l'obiettivo Cesar! Sapevo eh, vai! Eri! Vai! Di... Ancora! Di... 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 Madonna! da che è questo tipo il cap della merda andiamo amici della merda appate qualcosa ci stanno sta perdendo da quattro ebiti io dio ma salto ce lo smettete di giocare frutti papi di merda ma quali in 5 per più c'era 15 più c'era un 5 un'ora un'ora per conquista una bandiera sette persone sulla flag no quando lasci si perde lasci si perde siamo su c niente a destra c'è la cd galva prezzo c'è che c'è un party che c'è 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 la festa l'anno danno le coca con le gratis che danno succede tengano ottengono la b e la c perché sono le notte di me madonna madonna sto penso di merda mamma mia lasci e disumana e lasci lasci tutti al tutto tutti 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 sugli ovviamente mi si buga sulle casse mi si buga lì e non c'è persi poi di sbuggarsi mi si blocca il personaggio fermo ma dai stai minanti uomo della merda santo cielo uno sul mio corpo uno sul mio corpo ci siamo presi l'obiettivo bruno mamma mia è schifo guarda li sdraiato da li guarda è schifo guarda te ne fa quello sdraiato guarda te ne fa sdraiato guarda te ne fa abbiamo perso l'obiettivo anton nooo il da dietro dai però che palle che palle vedi da dietro bimbo della merda vieni frontali di volta che merda o sto rincoglionito connessato dell'ammetti connessonati in questo parte questo gioco dai in due lì che mi scelgo squagliate squagliate neanche tempo di sparare bimbo molto sono dentro cando di quali i b non si riesce b c'è troppo gente c'è una granata cresce nera non una cresce cresce una granata bella via dietro tutti lì davanti mi sono arrivati detta schifo 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 che mi arriendo a di qua dai ma non posso sponata mia cazzo devo sponata solo da me knight da me dai sponata a me rimorre mia 68 finìa ho io e fatia davvero non andai e lunio è venuto da dietro e lunio ha rotto un po coglioni rispetto a tutti e stavo l'unio che mi andava un po noia sempre da dietro veniva faccio uno e faccio due per arrivare da dietro poi c'è la bug e poi io dico ma bimbo allora io non so se avete studiato la cazzo di geografia a scuola a quanto pare credo di no allora è più vicina la germania o l'inghilterra rispetto all'italia è più vicina la germania o è più vicina la gran bitagna bimbo del merda allora sei la germania più vicina bimbo della merda puttanone prendi il server tedesco è più vicino si finga meno si sciotta di più no perché vai nel server inglese hai la banca in inghilterra hai il banchiere che sta giocando a batte il 5 insieme a te quindi gli devi chiedere se ti abbassa il mutuo cioè dimmi un pochino cosa hai dei problemi tu c'hai allora c'hai la banca york che ti dai fondi dimmi te per andare in inghilterra prendilo tedesco prendilo con la merkel prendilo con young car il tedesco è più vicino e c'è meno problemi no in inghilterra con gente che pinga uno va in inghilterra va bene vorrebbe dire che c'hai qualcosa sotto o c'hai la 20 giga perché in italia anche se c'è 100 mega è come avere una dsl 20 mega quindi bisogna aumentare 20 giga per avere 100 mega pratica in italia è così io non lo so bimbo mio ma che problemi tu c'hai per prendere un server in inghilterra prendi lo cazzo tedesco no più vicino pinghi 20 in meno santo cielo e muoiono no in inghilterra 20 in inghilterra è più lontano troppo io pigliarlo in finlandia santo cielo in scozza non lo so prendiamolo ancora più lontano polo nord va coranzù russia che ce ne so non lo so so che avete tutti la fibra avete tutti il giga il giga tutti il giga avete io non ce l'ho il giga e quindi mi tocca andare a giovani save più vicino eh non ho capito oh e che pare ecco un viso conosciuto potuto cielo dobbiamo conquistare e difendere il maggior numero di obiettivi no i server in inglesi ti shottano tutti gli inglesi se già sono grassi e mangiano i burro arachidi poi c'hanno anche i server sotto il culo almeno non si muovono ti viene della sega i brufoli anche sulle chiave gli vengono gli inglesi oh mare e macignano la puttana ma che problemi tu c'hai prendilo vicino no shotti te shottano chiusi shottano tutti alla stessa connessione no non so per quale motivo sia più lontano è neanche dire meglio è perché più lontano è peggio è oh merda oh da me c'è un po' di gente night night arrivo eccomi eccomi oh cazzo ho visto frontale sa che è andato sotto vince adesso carne morta cazzo cazzo tralli ah ti tralli trollo pure io pezzo di merda figlio di troia inglese babbone ha visto il karma fotte sempre pezzo di merda trollo pure io ancora di più guarda vada bello babbone di merda ti trallava ti trallava night e lo stronzo fatto che era uno che gli ha rompato la moglie fammi aprire cazzo ah non lo so io lanciarazzi 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 bubbeli buffe bubbi diop chi sono chi sono questi che cazzo sono i stili ma mi spieghi chi cazzo sono uno uno gli ha rotto il culo il bf1 ah sono francesi ah ecco ecco per ma scusami a perché non vanno a fare rivoluzione o coci le gialle invece veni a rompere il cazzo ne ha già su parte f5 vado a fare guerra a fili e gialli e con marron invece veni a rompere il cazzo a me con il lanciarazzi sti babboni smironi andiamo a prendere munizioni oh sti babbi del cazzo ma che è io non trovo nessuno dove stanno tutti sul b dove stanno io mi sono perso nelle lande madonna c'è il passaggio che l'abbiamo visto il passaggio io 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 trovo 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 una cosa nuova su questo giallo di merda c'era un passaggio segreto dietro la cassa del kit e medio o che lo sapete c'è il passaggio e allora tu lo sai ora ma praticamente sta da dietro la cassa dice ma da dove cazzo è sparito di cioio da cazzo è andato e andavo dietro e tu madonna le trovano di sott'occhio questa amperare basta amperare e le trovano di tutti i punti che 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 spara hai che che spara hai no no aspetta provo a venire ok viene all'alleato no ma non ci ha arrestato no a destra eh ho lo stand no ovviamente i olpi entrano subito i miei no invece oh tutta lì via almeno rianimano adesso la guai vaticolo all'alleato o su alfa knight conquistiamo l'obiettivo si andiamo su alfa facciamo così due tutte bombettine puzzolenti le azze eh da me da me da me che ritrovi in questa via via dopo io sono morto io la via davanti buh aspetta non morire no 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 pre nix boh boh ho questa come come andiamo perdendo l'obiettivo maker i bastardi sono arrivato scoppiamo dipendere l'obiettivo la mia spiegazione dovevi preparare non ci sono altre spiegazioni abbiamo perso l'obiettivo maker già ti dice se devi crepare quindi non ti faccio rianimare lo so gianfranco succede anche a me mi dispiace gianfranco ma quando hai la cronus no 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 intorno ma mamma mia se lo uccidevo lo smirai e erano due cominciò smirà madonna ho detto ora che fa mandò un pane in due vieni spona da me vai vieni vieni no finchè c'erano i belli definiti ma è lì cazzo si andava un pane un po' un altro da dietro un bordello un bordello poi ce l'ho lenta la mira no si cioè 291 vitane abbiamo perso l'obiettivo info cazzo madonna light non che fanno che fa un trefari arrivo 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 e ma funtana però ma sarebbe un secondo ma poi l'ho fatto quasi fatto che cerca di ampliati più o meno esisti di più incidenti un secondo la baguette qualche connessione no davanti tu bdp di merda che cazzo è bdp lì 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 è lo so è successo tante volte capito capito un po' troppo spesso sinceramente madonna e lui destra guardo sulla mitragliatrice quello sulle mitragliatrice era oh io a ste missioni di merda accidenta chi la inventa a ste missioni knight dove sei arrivato a ste missioni del cazzo guarda questo cioè non gli vedi eh no 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 io l'ho visto l'ave l'alleato perché c'ha il mega tv sennò cazzo dove si vedea andiamo sul b passerò passa qua centrale mi rompo poi di soccorso arriva davanti non c'è mai nessuno hight no ho chiuso la sinistra però devo a sinistra ci passo io no vengo con te ci passo io ci passo io qui back a destra c'è il giante qui in fondo a right no cioè qui sto cercando da qui all'angolo sembra morto aspetta naito ski poi davanti di amore sti tarati di bordo leon della merda ma santo c'è ma cosa sto da fare stalla del cazzo l'altro bambone sdraia ma è meglio vi io io poi segno e la croce davvero chissà pure esorcista levato gli sdraiati levate gli sdraiati a questo show basta ti vorrei restare perché risdaiato lo sapevo di non rianimare sto pezzo di merda ovviamente lui non mi ria anima che lui rianima poi sono il mio mare c'è poi sono andiamo su alfa naito su alfo o arrivando acqua centrale è visto laggiù occhi aperti madonna sono girati madonna e lo sai girao subito dio io si vabbè c'è sta connessione che si è connessionato madonna si è connessionato aspetta spawn a caso cioè 75 di danno 75 danno si è girato e ma squagliato parteciò perdita pancchetti il so perché il colpo si leva notte si lavano tanti un colpe sti vorrei sapere che c'hanno alla connessione sono il problema siamo in un server inglese io dio ma santo c'è oh io sti stupidi madonna server sti server dio io siamo di A non fermiamoci conquistiamo l'obiettivo non fermiamoci conquistiamo l'obiettivo non fermiamoci conquistiamo l'obiettivo guardati abbiamo preso l'obiettivo apel non mi addicolo non ferma non mi addicolo non ferma non mi torna verso B qui via oh attenzione stiamo perdendo l'obiettivo vada con attenzione ok t l'obiettivo charlie conquistato umore mio umore mio c'è mia verso c'è sto colpo lento si comunque giocare o si no server tedeschi da qui avanti guarda io c'ho un po' abituato io mi devo sistemare la mira un attimo io che ero troppo lento ma che bastardo volevi rianimare il tuo amichetto ci ho fatto doppia mi dispiace sta di cazzo mamma io c'ho un quaderno io c'ho un momento si occhio qui è quello camperato camperato lì sdrea con terra sei in campo ora starei bene ce l'abbiamo con l'obiettivo al nostro morta 4 o fianco sinistro di b nooo cazzo la sveglia olic con la mitragliatrice nuova ho perso l'obiettivo able ma perchè me lo ooo aspetta ma mi resti ma dai sii buona aspetta è troppo lento però non capisco i problemi c'ha aspetta è troppo lento se l'ha bloccato oi 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 o o o o o e dall'altra parte la strada dall'altra parte la strada nell'altro fabbricato di la dall'altra parte mi serve aiuto di la bravo dall'altra parte lì si ma sicuro c'è un altro romperà un crederai bello lì si c'è un altro si c'è un altro night un altro versi il ponte ooo vabbè c'è 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 morti proprio non entra colpi non lo so che c'è qui di bug a questo gioco abbiamo perso l'obiettivo maker soldati ora per animare sicuramente i giochi dici devi sparare stando fermo perché se ti muovi non entra colpi esatto madonna smiraglio attirato ma io lo so anche certe volte smirò ma sembra non lo so come sto colpo non è che entra subito c'è qua la superficie di cadenza di 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 lentezza puzza del colpo madonna non lo fa pure a stacco